Una riflessione sulla riqualificazione fluviale. I giovani ci stanno dicendo che in materia di cambiamenti climatici bisogna cambiare passo, dobbiamo cambiare passo a partire appunto dall'investire in natura. Togliere cemento, evitarlo. Gli interventi di riqualificazione fluviale sono sicuramente una di queste misure. La nostra città, Roma, è sicuramente un contesto nel quale poter intervenire largamente. Ha un tessuto idrografico molto vasto e ci sono esperienze consolidate. In tempi non sospenti il WWF propose ad esempio un intervento di riqualificazione sull'anserito ordi valle. Un luogo che forse può avere un interesse, una vocazione di interesse collettivo in chiave naturalistica e non in una chiave che porta cemento, che porta smog, che porta comunque tutto ciò che stiamo cercando di combattere.